Cosa penso e dica su di te, secondo a dove ti siedi in classe? La prima zona la chiamerei zona fuga perché siete quelli vicino alla porta che non vedono l'ora dell'intervallo. Ogni tre secondi guardate l'orologio e volete essere i primi ad uscire dalla classe. Zona domande, quelli propri di fronte al professore che ogni cinque secondi alzano la mano per fare delle domande inutilissime e ne fanno milioni per tutta l'ora. La terza zona la chiamerei zona prof, non sono così bravi ma sono lì davanti per far capire che vogliono impegnarsi, più che altro vogliono diventare amici del professore. Zona gossip o casino, già il nome dice tutto. In questa zona si parla, si chiacchiera, si gioca a carte, si mangia anche magari e sono coloro che distraggono il 50% della classe compreso anche il professore. Zona silenzio, secondo me la miglior zona, sono quelli che non fanno mai domande, magari ne fanno una ogni tanto ma sono quelli che prendono i voti più alti rispetto a questi qua davanti. E per ultimo zona pigra, non fate niente, o dormite o giocate al telefono, sono due le cose. E seguimi per altri video sulla scuola.